musica 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 che torbo ma stai proviamo a guardare proviamo a guardare i comandi o la wiki di z scendi un attimo ma che stai sprecando benzina adesso eh vabbè ma la benzina è l'ultimo problema la troviamo eh c'è l'opzione motore spento ecco motore spento, bisogna spegnerlo appena di scendere devo solo benzina ma vale l'ho ben fatto eh si si è parato ma vado a tra gli srassi Ronaldo l'idea che basta sull'erba e ha fattato per una bomba a mano sotto ok inter posso girare c'è un'arrivata di sfida mario erotene ma sarà sporata qui chiusura no avversi in effetti vabbè se tu la gira e ferro il resto muove essere no vai 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 ci vogliamo ci vogliamo o troppo veloce per te o anima porto andiamo no ma dici che riusciamo a dire sulla parca renata ascolta andiamo a far benzi effetti avviciniamo il posto magari stai vicino alla volta di posti atti più di così più di così si fa se non lo sto guardando eh no 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 problema è che se dove se finire la benzina allora ti spiega adesso a noi viene fuori eiezione ergo se noi facciamo eiezione o moriamo perchè c'è la sto bug con elicottero oppure eeeh il giudizio cbuti a milano siamo senza ho visto un video per coparo ragazze se non c'è l'ora ma comunque io davanti d'ordine se che bello passare tutti c'è la gente che spona con l'alami tata tata ma voi potete sparare siamo un bertaglio si comunque ora chiede di pdp c'è la costa non c'è così e sì perchè vedo ancora iniezione ma il senso sento no ne ho capito ok l'ho provato prima non c'è scelte non c'è scelte è forse perchè sono in movimento così si avvicin troppo vicino così avete trovato un veicolo di una barca aspetta totonio stai stai sorridendo in faccia a rock che bel movimento stai sorridendo iniziale anche a te c'è la idroski ahia scendiamo boh come viene scelta boh no ship con due scrive la barca eh ship con due e la peccola ah è vero questo credo che d'ordine devo confermare ma c'è da schiaffi che che brutto veramente ahahah ma se tipo io io poi esco e spawn su un altro server si un altro server no eh si si figata amica no ciccio devi giocare con gli altri non ti parla sociale no hm ero un esempio oh c'è un'altra parca no no noi la cercavamo al porto per quello qui no lì così non l'avevo mai cercata in effetti dove la vedi che dove la vedi che ore dodici da noi eh c'è la barca avanti non vedi inizio ad aver poco poca benzina ma ormai ci siamo inizio ad averci inizio ma dove l'altra parca è qui davanti gli sto andando arrivo lì dall'altra parca e mi fermo ehi si devo sluggare vedi di 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 mi scendere la mica che mi ammazzo si si dai dai sluggare rimango su qui andò qui andò qui andò attacchi ok quanti slot occupa cazzo sei eiezione mi fa scendere scendere ok guarda quanta benzina c'è al barca dai guarda quale cuore andiamo oh c'è anche la tannica qua hai quale oh e tu dai io tu ti tu ti 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 di come creare miseramente pesatico di merda muoviti, c'è uno zombie dietro ok no, sei sponato in acqua eh lo so quello posso farci quanta benzina hai? abbastanza comunque io ho due tanti aspetta no 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 dai dai torniamo in riva e ti rifugliamo anche questo mi sapevo no col turbo secondo me consuma di più no o dici di no? no non so se è così realistico da non so se è così realistico da